buongiorno buongiorno a tutti buon inizio settimana cominciamo nuove previsioni per questa settimana del 29 domani martedì per tre colpi come sempre questa settimana non abbiamo fatto niente e per troppo fatto poco forse 2 euro sull'extra ma pochissimo va bene allora le previsioni da regiocare sono ho provato a fare un altro calcolo speriamo speriamo facciamo un bel colpo grosso speriamo speriamo per tutti ok allora i numeri sono questi eccoli qua è l'otto avete visto l'otto continua a uscirmi sempre l'otto e poi come ho detto che avete visto che è uscito anche l'otto su come strato su su è uscito su mare anche sul nazionale questa settimana qua però io lo continuo a giocare ancora quel quella ambo che ho dato l'otto il l'otto il 21 mi sembrava si 8 il 21 su bari calia e nazionale chi vuole giocare ancora lo gioca ok chi vuole ricordatevi ok tanto e dopo faccio vedere il video nel prossimo video per per nuovo scusate aspetta che bevo qualcosa un altro ambo da rigiocare ok il prossimo video dopo di questo allora 10 all'otto serale andiamo a giocare 8 17 17 17 46 82 e poi il 2 il 7 il 38 il 43 ricordate che mi piace anche il anche l'otto il 17 su bari di cagliari specialmente su cagliari però dopo faccio vedere il video il prossimo video per il lotto da giocare ok allora e auguro scusate mamma mia come sempre si gioca scusate non riesco a parlare mi tocca a fare questo video di nuovo allora 8 17 46 82 e poi abbiamo il 2 di 7 38 il 43 se non quando parlo mi viene tosse si sto zitto si 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 e poi giocatele tutti insieme mamma mia giocatele tutti insieme alla poco giocatele tutti insieme 8 numeri quello oro doppio oro e extra ok oppure divisi divisi solo con l'extra scusate non ce la faccio non ce la faccio ok avete capito comunque adesso mi metto a posto dopo faccio un altro video ciao scusate tanto buongiorno buongiorno a tutti buon inizio settimana cominciamo nuove previsioni per questa settimana del 29 domani martedì per tre colpi come sempre questa settimana non abbiamo fatto niente e per troppo ho fatto poco forse 2 euro sull'extra ma pochissimo va bene allora le previsioni da giocare ok sono ho provato a fare un altro calcolo speriamo speriamo facciamo un bel colpo grosso speriamo 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 per tutti ok allora i numeri sono questi eccoli qua è l'otto avete visto l'otto continua a uscirmi sempre l'otto e poi come ho detto che avete visto che è uscito anche l'otto come è estratto su su è uscito su bari e anche sul nazionale questa settimana qua però io lo continuo a giocare ancora quel quell'ambo che ho dato l'otto e l'otto e il 21 mi sembrava sì 8 e 21 su bari e cani e nazionale chi vuole giocare ancora lo gioca ok chi vuole ricordatevi ok tanto e dopo faccio vedere il video nel prossimo video per il nuovo scusate aspetta che bevo qualcosa un altro ambo da rigiocare ok il prossimo video dopo di questo allora dieci all'otto serale andiamo a giocare 8 17 17 46 82 e poi il 7 il 2 il 7 il 38 il 43 ricordate che mi piace anche il anche l'otto e il 17 su bari e canieri specialmente su canieri però dopo faccio vedere il video nel prossimo video per il lotto da giocare ok allora auguro scusate mamma mia come sempre si gioca scusate non riesco anche a parlare mi so che mi tocca fare questo video di nuovo allora 8 17 46 82 e poi abbiamo il 2 di 7 38 il 43 si quando parlo mi viene tosse si sto zitto si si oppure giocatele tutti insieme mamma mia giocatele tutti insieme parla poco giocatele tutti insieme 8 numeri con l'oro doppio oro e extra ok oppure divisi rivisi solo con l'extra scusate non ce la faccio non ce la faccio ok avete capito comunque adesso mi metto a posto dopo faccio l'altro video ciao scusate tanto